Il capitano del capitano della metà di Sorrento, Italia, il capitano Mario Stefano. Il capitano di questa situazione a mio personal, le ha grazie per aver elegito la MSC Orquestra. Sto sicuro che sta tenendo con noi una vocazione serena, divertente e rica di momenti buoni. Le dico a tutti un felice crucero. Grazie.